Non finisce di far discutere la conferenza stampa di venerdì scorso al Bonolis di Teramo del presidente Luciano Campitelli, dei suoi legali Renato Borzone ed Edoardo Chiacchio, un evento che per contenuti e forma ha suscitato la reazione indignata del presidente dell'ordine dei giornalisti d'Abruzzo Stefano Pallotta, ma anche dell'Ussi regionale. Una presa di posizione che è stata recepita dalla società Biancorossa, che oggi ha corretto il tiro con un comunicato che sta di marcia indietro. L'incontro non voleva essere o rappresentare un motivo di scontro con i giornalisti, ma aveva lo scopo di agevolare la divulgazione di notizie in merito all'inchiesta in corso, recita la nota. È evidente che qualcosa non sia andato in quest'ottica ed ecco perché il club ha fatto dietro front. Il rapporto tra la Teramo Calcio e la stampa è stato sempre incentrato sul pieno rispetto di ruoli e funzioni, chiude quindi il comunicato. Ulteriori segnali di distensione dopo le tensioni dell'ultimo weekend saranno l'incontro che il presidente Campitelli ha chiesto nei prossimi giorni al presidente dell'ordine dei giornalisti d'Abruzzo Pallotta per poter porgere le scuse del caso e l'aperitivo voluto dal patrono Biancorosso per domani sera a Roseto degli Abruzzi con gli operatori della stampa Teramana. Intanto il Teramo compie altri passi concreti sul fronte del mercato in entrata e nel pomeriggio altri due tasselli sono stati messi a disposizione del tecnico Vincenzo Vivarini in attesa del raduno di Rivi Sondoli di lunedì prossimo. Per un giocatore si tratta di una permanenza. L'esterno Luca Di Matteo ha sottoscritto un contratto annuale fino a giugno 2016. Di Matteo continuerà la sua esperienza intrapresa in bianco rosso dallo scorso dicembre e si riproporrà in cadetteria dove conta già un centinaio di presenze buona parte delle quali con la maglia del Vicenza. L'altro è un volto nuovo e si tratta del 24enne difensore centrale napoletano Michele Rigione. Cresciuto nelle giovanili di Chievo e Inter ha giocato con Foggia e Cremonesi in Lega Pro quindi è debuttato in Serie B con il Grosseto, 10 presenze ed è reduce da due stagioni a Catanzaro dove si è consacrato quale difensore emergente e pronto al definitivo salto di qualità. Per lui un contratto biennale. Sul fronte dell'inchiesta si attende ancora la comunicazione delle date delle audizioni presso la Procura federale di Campitelli e del DS di Giuseppe. Il tempo comincia a scarseggiare ai fini della celebrazione dei vari gradi del giudizio sportivo entro le nuove date di inizio del campionato e non è neanche da escludere a questo punto che il procuratore Palazzi possa bypassare le audizioni per chiedere direttamente il deferimento davanti al Tribunale federale.